Le belle storie, anche quelle più appassionate, possono avere una fine. Come quella di Simone Giannelli e di un progetto ambito, invece volato via. A Trento il talentoso regista avrebbe voluto vincere tutto, invece dopo 11 stagioni passa ad un'altra piazza importante, che lotterà su tutti i fronti, Perugia. Cosa dici alla tua Trento che lasci? Alla mia Trento dico che sono tanto grato per tutto quello che ha fatto per me, come ho già fatto sui social pubblicamente. Insomma, sono molto molto grato alla società Trentino Volley, a tutti quelli che hanno lavorato in Trentino Volley, che mi hanno sempre fatto sentire a casa, a tutta la città di Trento con tutte le sue bellezze, a tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Loro dico veramente un grazie che è molto molto grande e viene dal cuore. C'è un ricordo particolare di Trento che ti vuoi portare dietro per tutta la vita? Di Trento mi porto dietro tutto, ma resterà sempre nel mio cuore. È veramente stato un percorso che mi ha permesso di poter arrivare qui dove sono adesso, quindi mi porto dietro veramente tutto, tutto, tutto. Adesso si va avanti e c'è una nuova tifoseria da conoscere, una nuova società da prendere mano, quindi non vedo l'ora di poterlo fare. Grazie. 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 Grazie.